Siamo alla pallavolo maschile, è una lotta infinita per lo scudetto, infatti entrambe le semifinali dei playoff arrivano a gara 5, domani si giocheranno le partite decisive tra Perugia e Modena e Civitanova e Trento. I marchigiani, campioni d'Italia dopo aver perso le prime due gare, hanno avuto la forza di riportare la serie in parità sul 2-2, infatti stiamo vedendo le immagini dell'ultima gara e conquistare poi la Bella che deciderà l'accesso alla finale. La gara proprio tra Civitanova e Trento sarà trasmessa in diretta alle 20.30 su Raysport più HD, canale 58 del Digitale Terrestre e 21 del TVSAT.